Per tutti era la figlia di Totò, ma Liliana De Curtis, scomparsa ieri a Roma a 89 anni, non era solo la figlia amatissima del Principe della Risata, era anche attrice e scrittrice e soprattutto custode devota del ricordo del comico più amato dagli italiani. Dal grande papà Liliana aveva ereditato la generosità e la solidarietà, amava sempre ricordare che Totò di notte si faceva portare a Napoli dal suo autista e infilava dei soldi sotto le porte dei Bassi per aiutare chi aveva bisogno, ma senza farsi vedere. Ma oggi questa Napoli forse non gli sarebbe piaciuta, aveva dichiarato il giorno del centenario. Napoli che ha dato i migliori avvocati, i migliori personaggi nel mondo che era allora, ridotto così, non lo avrebbe apprezzato. Il sogno di Liliana era un museo per Totò nella sua Napoli. Il progetto a cui lei ha dedicato una vita avrebbe dovuto prendere corpo in Palazzo Spagnolo nel Rione Sanità. Il ministro Dario Franceschini, nell'esprimere il dolore per la scomparsa dell'attrice, ha detto che il Ministero della Cultura è già al lavoro per rendere concreta l'idea di una grande sede museale, ossia l'ex Monte di Pietà di Napoli. I funerali di Liliana De Curtis si terranno domani all'ombra del Vesuvio alle 11 nella chiesa di Santa Maria dei Vergini a Napoli. Liliana sarà seppellita nel cimitero di Santa Maria del Pianto, lo stesso dove riposa Totò.